Da Foci di Grattaculo verso Stazema. Grandi Trudi. Grandi Trudi, ti sento in forma. Diciamo che si sguitta un po'. Qualche piccolo saliscendi. Qua c'è una casa. Proviamo a fare il ponticello. Bellino. Si regge. E' favoloso. Agriturismo, l'agrifoglio. Vada a spettacolo. Vada a spettacolo. Vada a spettacolo. Vada a spettacolo. Vada addirittura curva. Danno spettacolo. Molto interessante. Questa tratta di sentiero. Questo muschietto irlandese. Come mi sa di squitting. Come mi sa di squitting. C'è da fare anche un guado. La situazione si fa perigliosa. Guarda. Vediamo un po' che il chardo si fa qui ora. Vai. Bella storia. Ecco, dove state? Bella roba. Alla ricerca della ferriera abbandonata. Guarda. Sei solo. Fattibile, eh? Però sei solo. Ricordati che sei solo. Attime. Bonaia. Vado. che ruppone. That is so, che ruppone. Guarda. 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 E ora, e ora, e ora, come la mettiamo? Non la mettiamo, sono già piantato, ma la ferriera, dov'è? Guarda qui, ormai no, tardoso, diretti d'accesso, zona mineraria, ci siamo! E questo è un carrello minerario, altro carrello, la ferrovia, vabbè, spettacoli, spettacoli, è una zona mineraria, nooo, favola, carrellino, in buono stato di conservazione, uh, questa colorazione è dovuta, il ferro, vabbè, ha posto un cantante questo qui, ferro nice, uh, veramente molto bella, miniera di buca dell'avena, cioè, vista pane della croce, che ormai non ha più la neve rispetto a stamani mattina, si è marronizzata, ops, questi minari mi portano fuori, nooo, spettacolo, eh, cioè, vabbè, che gli vedi a un posto così incantato? Vada là, vada là, vada lì, vada là! Ancora! Che vogliono mettere a dura prova a Trudy, eh! Vogliono mettere a dura prova a Trudy! Vogliono mettere a dura prova a Trudy! E' in forma, eh! Beh! Devo dire che è una Trudy veramente in forma campionata! Oh, thank you! No, vabbè, allora, Trudy! Allora, dillo, eh, Trudy! Allora, Trudy, dillo! Allora, Trudy, dillo! Stessa forma! Vabbè, prova non ti allargà, eh! Perché... Testa in forma, ma io... Mi ha dato! Tra tosse! Mal di gola! Poi scendiamo al Cardoso! Beh! Wow! Qui c'è già dello spitting! Però che vuole andare di qua! Trudy, brava! Eh, grande Trudy! Dava, si è fermata subito! Qua c'era dello spitting c'era! C'era dell'ottimo spitting! Spitting sul repeating! Ah! Buona, buona! Ci anda in 360! Bello! No! 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 Allora, grandissima! Allora, dai! Ma thank you! allora! Beh! No! No! Am действi- Eri! Eri! Grazie a tutti.